Buonasera a tutti quanti e benvenuti da SaraGamer9147 in questo nuovo video di Ninja Gaiden 2. Allora, io sto giocando al secondo, io non ho giocato al primo, però la storia mi piace. Cioè parla di questo ninja Ryu... 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 Abusa... Abusa. In inglese lo dicono così, poi da voloso. Che praticamente deve sconfiggere un nemico, il clan del ragno nero. Del ragno nero. Però... Io sto al clan del ragno nero che da come ho capito io, non so, dopo i primi boss già si vede qualcosa. Io però ancora non ho visto niente, nel senso sono arrivata al primo boss, primo, primo o secondo boss. E al primo boss, a livello guerriero, è impossibile. È impossibile perché neanche di dar tempo di attaccarlo, già si è morto. Invece nel sentiero dell'accolito, anzi lo batti, ci riesce ad abbatterlo. Tranne l'altro boss che dico, non mi ricordo il nome però, che sta nel secondo capitolo e sarebbe un nemico del padre di Ryu... Ryu... Abusa. Abusa. Però... Sì, ci sta. Ovviamente io ci sto... Lo sto ricominciando, nel senso voglio... Voglio provare le varie modalità. Prima quella più facile, poi quella più difficile. Quella più difficile l'ho provata. È fantastica. Cioè, per chi come me ama l'azione, è fantastica. Mi diverto perché poi mi... Cioè, mi piace proprio. Io adoro l'azione, adoro fare... Cioè, adoro combattere. Adoro proprio l'azione. Invece sul sentiero dell'accolito, no. Nel senso, ci sto provando, ma non... L'omento si asma più di tanto, è troppo... Troppi pochi ninja. Troppe... Troppo facile. No. Ovviamente, io intanto ci gioco e piano piano mi preparo tutti i video. Poi farò un video finale in cui dirò... Farò proprio un commento finale di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto. Di quanti ninja ucciso. Infatti ogni volta quando uccido tot ninja, alla fine del primo livello mi danno capo ninja. Perché ne uccido talmente tanti che non mi fermo. C'è chi gli l'aiuto a testa, c'è chi gli l'aiuto a braccia, a chi lo lascio senza una gamba, dico... Beh, tanto... Tanto per dire. Però... Me lo sto preparando, ci sto lavorando sopra. Detto questo, un saluto da Saragamerda147. Ciao ciao.